Non sei tu il più bello? Beh, io veramente bello. Bello non sono stato mai, tutt'al più... Tutto al più sono un tipo, no? Tu sei un tipaccio. Dai su, muoviti adesso, se no facciamo tardi. Ah, che idea il teatro. Ma dobbiamo proprio andarci. E poi che fretta c'è? Io per farmi bello bisogno almeno di un'ora. Mezz'ora. Mezz'ora, d'accordo. Ci vediamo davanti al bar? Sì. Rita. Che c'è? Vente. Vente. Che te ti ha battito? Che c'è che te faccio i tuoi occhi così? Ha disgraziato? Ha te la vai? Ha disgraziato? Ha disgraziato!